Inizieranno il prossimo 20 marzo e dureranno fino all'8 aprile le udienze nell'ambito dell'incidente probatorio sul naufragio della Norman Atlantica venuto dopo un incendio scoppiato a bordo nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014 a largo delle coste albanesi sulla rotta fra la Grecia ed Ancona che costò la vita ad 11 persone, altre 18 risultano tuttora disperse. Il legipe del Tribunale di Bari, Alessandra Pigliego, ha fissato il calendario di udienze dopo il deposito della perizia sulle scatole nere e sul relitto ormeggiato dal febbraio del 2015 davanti al terminal crociere del porto di Bari. L'esame dei periti in Camera di Consiglio avverrà nell'aula bunker di Bitonto. Nel fascicolo della Procura di Bari, coordinato dai PM Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano sono indagati per i reati di cooperazione colpose in naufragio, omicidio plurimo e lesioni l'armatore Carlo Visentini, il comandante Argilio Giacomazzi, alcuni componenti dell'equipaggio, i due legali rappresentanti della società greca ANEC, noleggiatrice del traghetto, ed un dipendente della stessa società ANEC, il cosiddetto supercargo addetto alle fasi d'imbarco. L'incidente approbatorio sul relitto è iniziato nel giugno del 2015 ed è stato disposto con l'obiettivo di accertare le cause dell'incendio, la gestione delle fasi di salvataggio, ma soprattutto la funzionalità di tutti gli impianti a bordo. La relazione del collegio peritale, nominato dal giudice, è ora a disposizione delle parti, indagati, superstiti e familiari delle vittime, che nei prossimi giorni potranno chiederne copia.